Buongiorno! Siamo Yuka and Chronoship dal Giappone La scuola su U2 e E2 Alfa Abbiamo suonato in Francia Questando per la prima volta suoniamo in Italia Siamo molto contenti di essere qui con voi Abbiamo attaccato questo giorno e questo concerto Significa la macchina del tempo della musica Con questo concerto varia solo un bacio di sé Bella musica Grazie 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 Siamo Il nostro primo album World of Reincarnation Calteen Gravity Il nostro secondo album Dianya Luget Oxigen E infine Beyoncé fans, che parte della città, è il suo rocket, inspirata da la conti di lei, bravo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.